200.000 pensionati a basso reddito dovranno restituire la 14esima erogata nel 2008. Gli ex lavoratori coinvolti hanno ricevuto in questi giorni le lettere dell'Inps che nel suo diritto chiede il rientro delle somme erogate che vanno da 336 a 504 euro. Si tratta di persone che hanno più di 64 anni e un reddito annuale inferiore a 8.650 euro. La 14esima è una prestazione che è collegata al reddito del percettore, viene erogata in via provvisoria e viene erogata ad ufficio senza alcun tipo di domanda. Quindi è indispensabile successivamente all'erogazione provvedere a dei controlli sulla situazione reddituale del percettore. Da questo controllo sono emerse che 200.000 soggetti superavano questo limite reddituale, quindi la richiesta. L'Inps procederà dunque al recupero e al rientro delle cifre con 12 trattenute e forse 24 che variano da 28 a 42 euro al mese, un'operazione che riporterà nelle casse dell'ente previdenziale circa 80 milioni di euro. L'Istituto le richiede adesso nel 2012 perché effettuazione di tutti i controlli e poi la successiva dichiarazione dei redditi da parte del pensionato consentono di fare i recuperi in questo periodo. Il tavolo con i sindacati è sempre aperto, quindi si stanno anche valutando l'opportunità di aumentare il numero delle rate, quindi da 12 di passarle a 24. E di stamattina la notizia, anche il Presidente ha comunicato che si sta valutando questa opportunità. Se il pensionato nel frattempo dovesse essere morto, noi ci atterremo alle disposizioni e richiederemo la rata agli eredi nel caso in cui gli eredi abbiano accettato l'eredità.